Oltre al tragico bilancio dei morti e dei dispersi c'è un altro dato che ci ha fornito poco fa il prefetto di Napoli Claudio Palomba. Sono almeno 30 le abitazioni coinvolte a casa Micciola. Poco fa appunto la conferenza stampa al termine della riunione. La situazione è estremamente complessa, è stato detto. C'è tutta la questione della viabilità da ripristinare e dalla città metropolitana di Napoli anche un appello. Si riaprano il prima possibile le scuole per cercare di tornare a una certa normalità. Oggi è stato deciso anche il rinforzo degli uomini, delle forze dell'ordine. Sono stati mandati altri uomini e altre donne. In totale ora sono 242 i poliziotti, i carabinieri, i carabinieri forestali e i finanzieri presenti a casa Micciola. Oltre 150 i vigili del fuoco che stanno operando sul campo. Ma sentiamo questa intervista che abbiamo realizzato poco fa al prefetto di Napoli. E poi la linea può tornare allo studio. Il numero di sfollati è ulteriormente aumentato a 230. Tutti hanno comunque trovato un'allocazione o in strutture alberghiere o comunque private. E si è concordato proprio tenendo conto di queste esigenze che la prima cosa assolutamente necessaria è la perimetrazione, quindi l'individuazione precisa della cosiddetta zona russa.